ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi parleremo della mia non esperienza come soldato che vuol dire ho partecipato al concorso l'ho vinto sono partito poi per un motivo personale durante il periodo di pro ho chiesto non da non è che ho dato ho chiesto le dimissioni sono state accettate e quindi poi sono tornato indietro quindi di cosa parliamo parliamo appunto del volontario inferma prefissata di un anno nell'esercito italiano quindi io vi darò delle linee guida insomma e però devo anticiparvi fin da subito che non posso entrare in dettagli molto specifici quindi se avete qualche domanda potete farla nei commenti se posso rispondervi sarò felicissimo di farlo se non posso purtroppo vi devo fare video già chiedere scusa presente che succede ogni anno esce un bando e praticamente si partecipa al concorso quindi voi che fate quando esce il bando lo leggete lo scaricate lo stampate leggete tutti i requisiti perché c'è un limite di età un limite di altezza o almeno così è stato quando l'ho fatto io e poi ci sono anche delle serie dei punteggi che praticamente cosa comporta il fatto che voi salite in graduatoria come tutti i normali concorsi più alto avete il punteggio più è facile che vincerete il concorso quando ho partecipato io al concorso avevano appena introdotto anche le prove fisiche ho notato che sono rimaste cosa è cambiato è cambiato il tipo di punteggio cioè cosa fa punteggio però di questo ne parleremo tra un po' quindi il consiglio vi posso dare io è fatelo se siete determinati non fatelo perché vi serve un lavoro non fatelo perché non avete niente da fare prendete la cosa molto seriamente tutto questo praticamente l'ital funzionerà così inviate la domanda ci sarà una prima graduatoria farete le visite mediche farete le prove fisiche nelle prove fisiche pare che abbiano introdotto anche dei punteggi che dopo andremo a vedere ottenete l'idoneità anche dallo psicologo militare e i primi per esempio il primo blocco che magari può contenere facciamo finta adesso facciamo un esempio 2000 partenze quindi 2000 volontari che partono se voi rientrete nei primi 2000 partirete sicuramente quindi il trucco qual è cercare di ottenere un punteggio più alto e avere l'idoneità adesso andiamo a vedere il dettaglio quando io avevo partecipato faceva punteggio l'assistente bagnante di cui avevo fatto anche un video se ve lo ricordate faceva punteggio la patente faceva punteggio il porto d'armi la patente nautica tutte cose che io infatti avevo preso per per vincere il concorso poi effettivamente l'ho vinto sono stato molto fortunato ho deciso di fare questa cosa cioè quella di non proseguire l'ho fatto nei primi nel periodo di prova infatti su questo vuoi farvi riflettere un attimo perché intanto non è detto che ve lo accettino diciamo che durante il periodo di prova è più facile ottenerle cioè più facile andare via cosa è difficile farlo dopo innanzitutto perché se voi andate via dopo il periodo di prova se sarete esclusi da tutti i concorsi che voi volete fare successivamente adesso io stavo guardando tutte i punteggi che hanno inserito e hanno cambiato quindi come vi dicevo prima hanno tolto completamente tutto e forse anche meglio è diventata una cosa un po' più selettiva oltre alla normale valutazione che uno può ottenere con il diploma con la laurea e quant'altro messa anche come attestato attestato del bilinguismo italiano tedesco sinceramente io penso che ci siano poche persone che hanno questo attestato cosa molto importante invece ho notato hanno messo dei punteggi relativi invece alle prove fisiche cosa che invece quando l'ho fatto io era soltanto per vedere se è ridonio oppure no quindi se vi posso dare un consiglio voi dovete puntare molto a questo cioè alle prove fisiche visto che comunque vi riconoscono un punteggio per esempio qui c'è una corsa piana di 2 di 2 chilometri come tempo massimo 10 minuti e 30 sinceramente per me poi troppo perché quando ho fatto io era mi sembra entro le otto minuti non so perché hanno aumentato il tempo di idoneità però cosa hanno fatto hanno messo che per ogni secondo in meno che ci metti ti danno un x punteggio un tot di punteggio per ogni secondo stessa cosa vale per le trazioni stessa cosa vale per il piegamento sulle braccia tutti quanti si presenteranno con il diploma con la licenza media un voto in più uno uscito con sufficiente l'altro uscito con buono ci saranno più o meno all'incirca tutti quanti più o meno sullo stesso punteggio ci poi la cosa che farà veramente la differenza saranno queste prove fisiche probabilmente però effettivamente cosa è successo rispetto allo scorso bando lo scorso o almeno quello che avevo partecipato io io mi sembra che avevo partecipato circa cinque anni fa quindi non stiamo parlando dell'ultimo bando sembrerebbe che hanno fatto una cosa più selettiva appunto per appunto di vista fisico che dal punto di vista i punteggi che uno può presentare per quanto riguarda la prova psicologica quello che vi posso consigliare io è di essere completamente voi stessi loro hanno studiato da sempre i comportamenti sanno nel modo in cui anche vi presentate che tipo di riescono a capire più o meno che tipo di persona siete e riescono a capire soprattutto se stai dicendo la verità ovviamente parlerete delle motivazioni cioè cosa vi ha spinto a fare la domanda e a partecipare il concorso cosa vi aspetterete insomma aspettatevi una una bella prova ecco per quanto riguarda tatuaggi c'è un discorso a parte da fare cioè intanto non devono essere tatuaggi visibili non essere nascosti ma soprattutto oltre quello devono essere tatuaggi insomma che non rappresentano aggressività e cattiveria per quanto riguarda la mia esperienza la mia non esperienza io mi ricordo molto bene quei giorni sinceramente era andato tutto bene non mi nascondo niente mi sono trovato molto bene con i miei compagni di camera ho avuto anche l'occasione di sentirli successivamente e diciamo che qua mi hanno anche un po' incoraggiato nel senso che quando io sono andato via loro hanno deciso di rimanere dopo qualche mese che ci siamo sentiti loro è successo ovviamente il contrario loro hanno rimpianto il fatto di non essere andati via prima perché secondo loro finito il periodo di addestramento non stavano più facendo nulla che riguardava l'addestramento comunque l'ambiente militare perché il soldato deve fare determinati compiti quale per esempio anche pulire i bagni quindi io sinceramente vorrei consigliarlo se siete veramente determinati a fare quel tipo di carriera non ve lo consiglio se invece voi lo volete fare tanto per cioè o comunque tanto o tanto per lavorare c'era all'interno del reggimento un buon 80 ma anche il 90 per cento di persone che lo facevano solo perché non avevano un lavoro a me purtroppo questa cosa veramente mi ha dato fastidio per quanto riguarda i guadagni lo stipendio diciamo che appunto il volontario in ferma prefissata e praticamente guadagna uno stipendio base si aggira intorno agli 800 euro con qualche straordinaria arriva anche a mille ora cosa molto importante non pensate che state a un parco divertimenti voi state rappresentando un qualcosa di molto importante quindi non pensate non date per scontato che tornerete tutti i weekend a casa che farete come un normale orario lavoro che uscite pomeriggio aspettatevi veramente un anno difficile e avrete veramente molto da imparare spero che questo video vi sia piaciuto se avete domande fatemele tranquillamente nei commenti mi dispiace io so che molti sicuramente vorranno fare delle domande più specifiche relative test e quant'altro però purtroppo non posso entrare nei dettagli io vi posso dire soltanto quello che che penso su determinate cose non posso dire tutto quello che riguarda quell'ambiente se posso sarò lieto di rispondervi se non posso vi chiedo già scusate in anticipo ricordatevi di iscrivervi al canale ci vediamo al prossimo video ciao